Salve! Nel contributo di quest'oggi commenteremo uno dei più grandi classici della letteratura del Novecento, vale a dire Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Il Bulgakov era doveroso fare ovviamente un commento, un contributo, dato che si tratta di uno dei più grandi scrittori russi del ventesimo secolo. Il Maestro e Margherita è sicuramente tra i più grandi capolavori letterari del Novecento e quindi mi sembrava ovviamente d'obbligo dover dedicare in qualche modo un contributo. Potremmo ovviamente dire molto su un autore come Bulgakov, intanto possiamo dire che era nato nel 1891 a Kiev in Ucraina, dopo essersi laureato tra il 1916 e il 1917 in medicina all'università di Kiev, cominciò proprio ad esercitare la professione di medico, anche questo aspetto molto interessante di un autore tra i più originali, bizzarri, anche tra i più grandi innovatori della letteratura russa, che però non aveva studiato letteratura come abbiamo visto, ma si era dedicato alla professione medica. Tanto che però dopo la rivoluzione d'ottobre Bulgakov dovrà tornare a Kiev e successivamente abbandonerà la professione di medico e comincerà proprio a scrivere per il giornale della provincia. Successivamente nei primi anni venti si trasferisce a Mosca, dove lavora per la sezione editoriale letteraria del comitato politico educativo, di quello che era praticamente il commissariato per l'educazione e in questo periodo comincia anche a scrivere i suoi primi racconti, anche a scrivere per il teatro. Il teatro ovviamente la sua grande commedia ad esempio è L'Isola purpuria, che andrà in scena a Mosca nel 1928 e proprio nel 28, intorno alla fine degli anni venti, che inizia a lavorare a questo suo capolavoro straordinario, un romanzo che veramente rimane tra i, forse insuperato per certi versi, assieme al processo di Kafka, tra i più grandi romanzi della letteratura del Novecento. È Il maestro e Margherita, che inizialmente la prima sterusura si intitolava Il consulente con gli zoccoli addirittura, che poi verrà distrutta. Insomma sarà un lavoro a cui lui dedicherà grandissimo tempo. Consideriamo che poi Bulgakov non ebbe poi una vita chissà quanto lunga, perché poi sappiamo che lui morirà nel 1940 a causa di una sclerosi renale. Sappiamo che il romanzo Maestro Margherita lo continuerà per tutta la sua vita, a cominciare dal 28 fino praticamente al 1939. Considerando che poi addirittura che ha esistito tra l'altro la moglie, che lo aiutava anche nella stesura del manoscritto, un manoscritto che come sappiamo è stato più volte riscritto, cambiato, modificato, sappiamo anche perché per non andare incontro alla censura, che era ovviamente tipica del sistema sovietico, dove tutta l'arte e la cultura veniva costantemente in qualche modo vagliata e anche sottoposta a censure. Tanto che addirittura il Maestro Margherita verrà dato alle stampe dopo la morte di Bulgakov, addirittura negli anni tra il 1966 e il 1967 sulla rivista letteraria Moskva, di Moskva appunto. Di che parla questo grandissimo romanzo? Un romanzo veramente molto difficile da descrivere anche perché sappiamo che è un insieme di affreschi, di episodi, di situazioni narrative che sono in qualche modo collegate tra loro. Comunque possiamo dire che questo romanzo si ambienta su due principali piani narrativi. Da una parte la prima ambientazione è quella di Moskva, la Moskva degli anni 30 del 900, in cui troviamo il personaggio di Satanasso, appunto del Nefistofele, se vogliamo definirlo con il termine greitiano, faustiano, ossia Satana, nei panni di Roland, che è questo misterioso professore straniero, esperto di magia nera, che ha un grande seguito di personaggi molto particolari che gli vanno dietro. Ha questo gatto anche Behemoth, il suo sigario a Zaziello, insomma tantissimi aspetti che rimandano veramente anche alla letteratura, per certi versi anche al Faust di Chete, non possiamo anche non pensare all'influenza tedesca che ha sicuramente contribuito a creare questa atmosfera quasi bohemienne, diciamo così, del romanzo, anche un'atmosfera mistica, per certi versi anche grottesca, surreale, simbolista. In questo romanzo troviamo veramente tutta la grande sintesi anche degli stili letterari che erano più in voga nel periodo, tra gli inizi del novecento e proprio gli anni trenta. Questo diciamo l'arrivo di questo gruppo, del gruppo appunto capitanato dal nostro Roland, porta a uno scompiglio, diciamo, tra i membri di questa importante associazione letteraria chiamata la Massolit. Troviamo anche questa ambientazione di società segrete, di questa mosca che ricorda anche in un altro senso i grandi romanzi di Dostoevsky, pensiamo ai demoni o anche l'atmosfera che troviamo in Gogol, dice di ritrovi misteriosi. Se il regime sovietico voleva, tra virgolette, dare un'immagine di una Russia ormai libera, dove ormai era stata vinta la ingiustizia sociale, al contrario, Burghago ci fa vedere una Russia estremamente burocratizzata. Il secondo punto fondamentale dell'opera si ritrova nella vicenda invece del maestro. Era uno scrittore a cui era stato rifiutato il suo manoscritto, che era un romanzo incentrato sulla figura di Ponzio Pilato. Aveva dato alle fiamme la sua opera, da quello che lui racconta, e aveva lasciato la sua amante, appunto, la nostra Margherita. Tanto che infatti la seconda parte della storia, al di là degli avvenimenti che poi avvengono a Mosca con il personaggio di Goland, che crea, appunto, i suoi scompighi, che mette a suo quadro anche la società russa del suo tempo, il romanzo va indietro sui avvenimenti accaduti a Gerusalemme, appunto, durante il periodo pasquale, al tempo del procuratore, appunto, Ponzio Pilato, dove viene ripresa, appunto, la storia del maestro che aveva scritto su Pilato nei giorni successivi al processo e anche alla morte di Gesù. E poi successivamente entra in scena anche la nostra Margherita. Come vediamo, è un romanzo veramente molto complesso, anche da stare qui a raccontare. Possiamo comunque dividerlo in questi tre passaggi, se vogliamo. La prima parte è quella dove troviamo la vicenda di Wolland, del professore, che è il diavolo venuto sotto mentite spoglie a Mosca. Poi la parte, quella incentrata sulla figura del nostro maestro e soprattutto sul romanzo, sull'opera che si dice essere stata bruciata, ma che poi scopriremo in realtà essere stata in gran parte anche salvata dalle fiamme e incentrata, appunto, sulla figura anche di Ponzio Pilato. E il terzo punto, che è quello dove troviamo la nostra Margherita, che era l'amante del maestro. Anche qui, ovviamente, il nome Margherita non può non rievocare, ovviamente, il personaggio di Margherita del Faust e di Chete. Ovviamente adesso non stiamo qui a raccontare tutta la vicenda, perché altrimenti sarebbe veramente molto complicata, anche e soprattutto per chi volesse leggere il romanzo. Questa è un'opera veramente unica, anche per la grandezza, la mole di spunti che riesce ad offrire a ciascuno di noi. Troviamo anche degli aspetti assolutamente originali, per esempio il personaggio di Wolland, questo professore che riesce a smascherare in qualche modo anche tutta la corruzione, a portare a gala il marciume di quella che era la società sovietica di quegli anni. Questa cricca letteraria di questi membri della Massolit, che viene definita nel romanzo, Burgakov ci dimostra come una cricca di critici mediocri, di intellettuali stilendiati. E nello stesso tempo troviamo invece il personaggio del maestro, che al contrario viene condannato. Quindi anche il tema della libertà di espressione non è un caso che una delle frasi ricorrenti nel romanzo è pronto, i manoscritti non bruciano. Il ritratto di una Russia che si mantiene sempre in bilico tra l'elemento fantastico, quindi che ci può rammentare ovviamente l'Ottocento, la grande letteratura anche del tardo romanticismo, e nello stesso tempo questo intervento anche del moderno, della contemporaneità, che si esprime infatti proprio nello stile di Burgavo, che come abbiamo detto è polifonico, uno stile dove si riprende da tantissime correnti diverse. Poi anche il riprendere la tradizione addirittura biblica, la storia di Gonzio Bilago, di Gerusalemme, dove il personaggio anzi del procuratore romano non viene visto come generalmente siamo abituati a intenderlo, come un carnefice, ma anzi come un uomo che ha avuto anche dei pentimenti di aver condannato Cristo, che non sapeva come fare, che si è visto quasi costretto addirittura ad accettare questa condanna, quindi veramente un romanzo che riporta anche l'elemento umano spirituale, se vogliamo dire così, e anche questo elemento di grande importanza della libertà artistica, perché un paese dove l'arte non viene svolta in libertà è un paese che non ha nemmeno arte, una delle condizioni fondamentali proprio dell'arte è anche la capacità di espressione, la libertà d'espressione. Un romanzo assolutamente straordinario anche per la sua capacità di evocare da una parte l'elemento realistico, che è dato ovviamente dal mondo, dalla descrizione dell'ambiente anche intellettuale burocratico della Mosca di quegli anni, che viene rappresentato in maniera assolutamente precisa, con grande evidenza, e nello stesso tempo veniamo trasportati in questo ambiente metafisico, surreale e anche in un certo senso, tra virgolette, fantastico. È importante anche precisare il personaggio ovviamente di Ivan Besnomni, che era appunto questo ex poeta che poi era diventato professore dopo la conoscenza con il maestro che aveva incontrato appunto in questo ospedale psichiatrico, e il personaggio come abbiamo detto di Margherita, che questa donna, diciamo straordinaria, questa Beatrice, potremmo definirla, che è quasi un'entità metafisica che aiuta il maestro a ottenere praticamente la pace, anche ad aiutarlo a completare il suo manoscritto. Dal momento che il personaggio del maestro è, secondo almeno alcuni critici, una rievocazione probabilmente dello stesso Bulgakov, anche del periodo difficilissimo che il nostro autore aveva vissuto proprio in quegli anni durante la dittatura stalinista, d'altronde. Vorrei arrivare adesso, come facciamo spesso, anche alla conclusione del nostro contributo leggendo proprio il finale, questo finale bellissimo, l'epilogo appunto, il lungo epilogo del maestro Margherita, leggendo proprio l'ultimo paragrafo. Allora la luna comincia a trionfare, e riversa torrenti di luce sopra Ivan, sprizza luce in tutte le direzioni, e nella camera è un'inondazione di luna, e la luce ondeggia, si innalza, sommerge il letto, e allora Ivan Nikolevich dorme con viso beato. Al mattino si sveglia silenzioso, ma assolutamente calmo e in salute. La sua memoria eccitata si acquieta, e fino al successivo plenilunio nessuno turberà il professore, né il carnefice senza naso, l'assassino di gesta, né il crudele quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato. Grazie.